Pronto? Pronto? Pronto, Asli di Cosenza? Pronto? Asli di Cosenza? Pronto, signor Loria? Signor Loria, dopo domani si deve presentare alle 10.30, tocca a lei per il vaccino. Tocca a lei alle 10.30 a chi? Signor Loria, non so se ha sentito, devono essere vaccinati tutti gli italiani. Signor Loria, signor Loria, dopo domani alle 10.30 deve venire all'Asla, se no vengono a prenderli carattere. No, faccio una cosa, vedete se potete venire voi al luco, che vi vaccino io. Signor Loria? No, io comincio a chiamare il cugino Agostino, ci faccio preparare le vacche, capito che voglio rire? Signor Loria? Faccio trovare le vacche tutte allineate, capito che voglio rire? Signor Loria, se lei non si vaccina può diventare un individuo... Pronto? Signor Loria, mi sente? Sì, sono un bell'ora al suo momento. Ho capito, però lei può diventare un individuo se non è vaccinato, noi stiamo vedendo in pratica tutti coloro che non si sono vaccinati. Quindi, chi non si è vaccinato può diventare un individuo rischioso, adesso deve riempire... Ho capito, non c'è un cazzotecchio, mi diceva che è un cazzotecchio, mi carattere qui... Allora, signor Loria... Siamo pure candidato alla regione all'ottobre, un governatore, mi fa un piacere sempre e portare rispetto. Dice, che è un cazzotecchio. Signor Loria, lei deve dirmi quale marca vuole? Johnson? Pfizer? No, Johnson si fanno i quattro anni, la mia è la 6 vutt. Johnson è una dose sola, signor Loria. L'unica cosa che posso fare è l'ucosco, questo cavolo che sta facendo. Se mi faccio il tuo freezer... Pronto, è caruto, è morto con tutto. Pronto, fa caldo! Non ho capito. Pronto? Sì, sono pronto io, sei caruto? Signor Loria, sono Aldo, io mi chiamo Aldo. Aldo, senta una cosa, io se mi fate il freezer che fa caldo, allora... No, mentre oggi mi la faccio, ma se no te ne va che me è quello vaccino mio. Allora, signor Loria mi deve dare nome e cognome, altrimenti lei viene considerato... Scrive Rocco Loria, governatore, candidato a governatore alla Calabria, alle regioni, ad ottobre. Pupupupu, Rocco Loria, mi piace tu, dicevo. Sì, la vengono a prendere coattamente. No, la vengono a prendere i carabinieri perché sta diventando obbligatorio, tutti devono essere vaccinati, tutti. Sì, ma io tutti i giorni mi vaccino, non è che... Ha capito che voglio dire? Io non è che mi vaccino con il VCTV, con la punturiccia, le cose, io mi vaccino con il formaggio, i vaccini. E poi ci viene un bel peccato di vino, ha capito? Questo indossare il vaccino, ha capito che voglio dire? Non capisci niente, Aldo. Pupupu, mi piaci tu, ha capito niente. Pupupu, mi piaci tu, guardo. Allora, lei continua a scherzare, signor Loria, lei continua a scherzare, io non so che dirle. Ah, dove mi vanno a sopplicare, per piacere. Allora... Non ti conosco, non ci manco chinesina, ha capito? Poterci cariù da tempo, mi sta coglionando, perché chinesi se è una cosa vera, ho stato io canna, ha capito che voglio dire? Pupupu, signor Loria, sono un responsabile dell'Astlicosenza. E ho capito, poi c'è un po' di chiunque dire il responsabile dell'Astlicosenza. E chiamo, sono Francesco, signor responsabile dell'Astlicosenza, che me ne buttate a me. Ma io sono, io mica... Ma ho capito, quindi fra un qualche mese te come noi, io che sono governatore della regione. Sì, ma adesso, dopo domani, lei se non si presenta, verranno i carabinieri a casa. Adesso mi dica... Falle penire, falle penire, falle penire che metto io, cari niente, il formaggio, soppressato. A AstraZeneca va bene. Così mi fanno, così mi fanno una volta, a AstraZeneca, cose che vuoi. A AstraZeneca, a Johnson. Io, 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 non è perché, cavolo, che sta facendo voi, scoprizzare, dedicare la verità. Moderna, c'è anche Moderna? No, Moderna, io signor l'antica, che ne vede su Moderna. Va bene, lei fa lo spiritoso. Johnson e Johnson, le quattro a rie, quindi adesso ce l'ha implicata a me. Va bene, va bene. Signor Loria, lei fa lo spiritoso, io segno, 10 e 30, dopo domani, se lei non si presenta. Dopo domani, c'è la roba da mia, c'è con le vacche che mi faccio trovare. Verranno i carabinieri e gliela fanno... Si, li invito a casa mia, c'è che portassano le moglie, le cose che parliamo, questi ne fanno con una volta. Capite che voglio rire. No, lei rischia il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, il TSO. Sì, sì, alla regione, alla regione. No, il TSO. Il candidato a Presidente, capite che voglio rire. Il TSO, lei rischia il TSO. Sì, sì, VVV. No, il TSO, il TSO. Il VVV, mi piaci tu, sì. Va bene. Va bene. 10 e 30, dopo domani, arrivederci. Dopo domani, c'è con le vacche, farle venire poi i carabinieri. No, no, deve venire lei, deve venire lei a cos'è. Vabbè, faccio come vuole. Ah, faccio come vuole, pure lei, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.